Power Twister Python Vertical Traction Questo esercizio, una mano tiene in alto il Power Twister e un'altra nell'estremità verso il basso La mano che tiene verso il basso fa lavorare il bicipite in esometria Mentre con il braccio verso l'alto andiamo a compiere una trazione al petto In modo che il dorsale lavori in isolamento Cambio Ok